Buonasera a tutti, oggi vi parlo del numero di ottobre del giornalino del fotografo venuto al passato però voglio dirvi anche un'altra cosa, voglio dimostrarvi, prova e la mano, come sia utile, conveniente addirittura dal punto di vista storico, pubblicare le prove e fotografie sul giornalino del fotografo venuto al passato perché voi come sapete, per almeno chi mi segue, io invito i lettori a inviarmi alla mia mail racconti e fotografie della loro esperienza fotografica che poi è un'esperienza fotografica che si mischia con l'esperienza di vita in generale cioè attraverso le fotografie si racconta se stessi e il percorso che si è fatto nella vita o quel percorso che si sta facendo per la vita quindi io non chiedo di inviarmi grandi capolavori o delle fotografie bellissime poi se non ha scattato una fotografia bellissima, per carità no, io chiedo ai lettori di raccontarsi sul giornalino del fotografo venuto al passato e devo dire che mi è arrivata, mi è giunta una mail del primo collaboratore del giornalino del fotografo venuto al passato cioè Paolo da Trieste che mi ha inviato una bella storia scritta da lui con le fotografie che ha scattato in montagna e mi ha ringraziato, questo non me l'aspettavo, del fatto che io l'ho spinto a scrivere e già perché ormai non scrive più nessuno cioè tanti scrivono, pubblicano libri però in generale nessuno scrive e invece concentrarsi, mettersi a scrivere ovviamente col computer e con la tastiera e riflettere su quello che si è fatto dal punto di vista fotografico quello che è connesso alla fotografia è una bella esperienza, è una bella attività da fare e io sostanzialmente chiedo questi racconti e queste fotografie da pubblicare sul giornalino quindi questa è la cosa che volevo premettere ma vi farò vedere anche come sia molto importante pubblicare le fotografie sul giornalino del foto venuto dal passato prendendo degli esempi che appunto vengono dal passato venendo degli argomenti il primo argomento che è trattato nel numero di ottobre fa riferimento al ritorno dell'autunno siamo a ottobre e quindi torna l'autunno che però non è più l'autunno di tanti anni fa è un autunno molto diverso voglio dirvi che il periodo peggiore per la fotografia per scattare fotografie è l'estate perché almeno per la fotografia di paesaggio i cieli sono bianchi, fa un caldo terribile si vive sostanzialmente una situazione di disagio e l'estate per le fotografie non è il periodo migliore a meno che non si vogliono fare fotografie a mare, sott'acqua eccetera eccetera l'autunno invece è anche l'inverno è il periodo migliore per scattare fotografie quindi il ritorno dell'autunno è anche un ritorno delle possibilità di scattare delle fotografie senza essere assillati dai 38 gradi all'ombra per esempio e faccio degli esempi di come possa essere una giornata d'autunno fotografico nel secondo giorno faccio riferimento a delle fotografie che ho io che ho trovato di attrici degli anni 60-70 che stanno qui vedete queste fotografie originali che ho io e addirittura firmate dalle attrici o comunque qualcuno ci ha messo il nome appena delle varie attrici ce ne sta una in particolare che è questa che si chiama Marta Toren dove c'è una sorta di mistero circa il colore dei suoi occhi e poi dietro a una di queste fotografie sempre originali avute da una persona che andando a casa una persona che a sua volta era morta e che era un appassionato di cinema aveva tutte queste fotografie originali bene dietro a questa fotografia di Marta Toren c'è scritto una cosa molto interessante e si parla proprio del colore dei suoi occhi nel terzo giorno faccio riferimento a una vitolette che ho trovato al mercatino in condizioni smontata sostanzialmente l'ho provata l'ho rimontata diciamo a mio piacimento rispetto a com'era in origine e ho dimostrato quanto sia importante per una buona fotografia il fatto che la macchina fotografica durante lo scatto non produca delle vibrazioni questa vitolette è proprio l'emblema invece delle fotocamere che magari ha una bella ottica ma vibra tantissimo durante lo scatto e le conseguenze si vedono bene andiamo avanti qua si parla di un famoso film che si chiama Metropolis un film del 1926 questi film degli anni 20 in bianco e nero e muti avevano una particolarità non tutti ovviamente ma quelli più belli avevano una particolarità la particolarità era quella di ogni inquadratura era una fotografia non stanzialmente c'erano talmente ben girati talmente ben fatti che ogni inquadratura era una fotografia Metropolis poi era un film di fantascienza particolare che ha anticipato molte cose che si potrebbero verificare oggi e io ho estrapolato una serie di fotogrammi di Metropolis per farvi vedere a che livello stavano nel 1926 per quanto riguarda il cinema ma anche per quanto riguarda l'inquadratura del film la cura per ogni fotogramma il quinto giorno parlo dell'occhio del fotografo di come il fotografo possa vedere delle cose che la persona che non fotografa o il fotografo distratto non vede in fondo la macchina fotografica soprattutto col suo obiettivo è una sorta di terzo occhio del fotografo e qua vedrete una fotografia dove di una cosa di un albero dove ogni giorno ci passano davanti migliaia e migliaia di persone se non migliaia centinaia e centinaia di persone ma nessuno si è accorto della particolarità di questo albero tranne un fotografo evidentemente qua parlo un poco di ideologia della fotografia e ideologia della vita guardate sarò come non lo so però per dire che una persona ha scattato una fotografia ci vogliono ci vogliono delle regole pure per quello perché non è che qualsiasi cosa si fa allora ho scattato io sono l'autore di una fotografia non voglio scendere nei particolarità del diritto dell'autore di queste cose eccetera eccetera però adesso il problema sta diventando molto serio con l'intelligenza artificiale a proposito io direi una cosa per l'intelligenza artificiale io ne ho parlato nei numeri precedenti e ho mostrato anche alcune fotografie fatte con immagini perlomeno fatte con l'intelligenza artificiale quello che è uscito qualche mese fa era qualcosa di obrobrioso di verità veramente obrobrioso però io già qualche mese fa avvertivo questo è adesso ne parleremo fra un po' di tempo tornando sullo stesso sito di generatore di immagini di intelligenza artificiale che è un sito tra l'altro è gratuito ho visto che le immagini fotografiche parafotografiche che sembrano disegni la qualità è enormemente migliorata e parliamo di pochi mesi parliamo di pochi mesi allora a questo punto di fronte a una situazione di questo tipo veramente bisogna chiedersi ma chi è l'autore di una fotografia che caratteristiche deve avere che ideologia bisogna seguire per considerarsi autore di una fotografia il settimo giorno invece ho l'intervento di david cassicoli che ci racconta il suo rapporto con la fotografia e posta quattro belle fotografie sono belle anche perché raccontano l'intimità della fotografia l'ottavo giorno faccio riferimento a una fotografia che scattai di una persona anziana che saliva con una certa difficoltà percorriva una strada in salita con una certa difficoltà e il titolo di questo ottavo giorno è la nonna se ne va nel nono giorno invece parlo di una fotografia che ritrae un divo del film mutuo del cinema si chiamava Buster Keaton ancora il decimo giorno potrà sembrare strano parlo dell'importanza della ringhiera eh già uno non si chiede non si chiede mai quanto sia importante una ringhiera ebbene la ringhiera è importante non solo dal punto di vista pratico ma anche dal punto di vista fotografico e ve ne darò una dimostrazione l'undicesimo giorno è un articolo che mi ha inviato Maria Luisa Carrada che fa riferimento alla Minolta 7S è una macchina che ho provato ho fatto anche un video ebbene lei ha scoperto una funzione della Minolta 7S che non c'è su libretto di istruzioni che nemmeno io avevo individuato e invece lei ha trovato e quindi spiega questa funzione nascosta della Minolta 7S con relative fotografie il dodicesimo giorno si parla di un'attrice che si chiama Anne Brighman questa Anne Brighman scatta affatto scatta no perché si vede sono tempi lunghi delle fotografie belle belle fotografie veramente belle come quella di copertina del giornalino del foro avuto al passato però quando poi si va a vedere la didascalia di queste fotografie non c'è nessuna indicazione su cosa significano queste fotografie chiaramente sono fotografie allegoriche indicano un concetto per esempio che ne so l'albero rotto fare un esempio il titolo della fotografia l'albero rotto oppure questa qua c'è questa donna nuda che spinge una bolla si chiama la bolla insomma lei non dava nessuna indicazione questa qua si chiama Brezza Briss questa qui non dava nessuna indicazione sul cosa voleva dire attraverso le sue fotografie ebbene io le ho analizzate queste fotografie e ho scoperto che in realtà posso sbagliarmi indubbiamente che in realtà il messaggio c'era e come attraverso queste fotografie ho fatto le ricerche che pare che nessuno abbia mai parlato almeno su internet ma nemmeno sui libri che ciò in realtà del reale contenuto delle fotografie di Anne Brigham e è un messaggio non femminista ma femminile perché lei è incentrata sulla figura della donna e le scoperte che ho fatto secondo me sono molto interessanti in merito all'interpretazione delle sue fotografie il tredicesimo giorno vi parlo di un libro che io non conoscevo ma mi ha segnalato Gianluca Saccone che vive e lavora negli Stati Uniti questo libro si chiama La vendetta dell'analogico e risale al 2016 dove già l'autore del libro David Sachs insomma fece delle previsioni che poi in gran parte si sono rivelate esatte il quattordicesimo giorno parlo di questa persona qua che vedete in fotografia credi questa persona quanto sei napoletano un milione un milione e mezzo due milioni non so tante praticamente ha toccato tutti i napoletani pure a me tutti non conosco nessuno che non sia stato toccato da questo da questo signore qua che io fotografai diversi anni fa purtroppo adesso è deceduto e c'è la storia di questa persona di come questo ha toccato tutti i napoletani e si avvicinava sempre vicino a tutti e mi diceva sempre oppa 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 non si è mai capito veramente cosa vorreste dire il mattino lo definisce come un mendicante in realtà che mi risulti non ha mai chiesto niente a nessuno poi il quindicesimo giorno si parla del carro del vincitore eh già perché sapete ci sono le guerre purtroppo ma non solo le guerre diciamo vere ma quelle politiche eccetera eccetera o di altro tipo commerciale e così via ebbene c'è sempre qualcuno pronto a salire sul carro del vincitore quando O era neutro rispetto alla guerra che si combatteva addirittura stava dall'altra parte e queste persone che salgono sul carro del vincitore si arrogano il merito di essere stati loro quelli che hanno combattuto e vinto questa cosa sta succedendo anche nel campo fotografico soprattutto per quanto riguarda la fotografia analogica il sedicesimo giorno Paolo Paolo Patriste mi manda una canzone che nell'Unione Sovietica cantavano i reporter la canzone del reporter nel 1943 con tutto il testo questa canzone è conosciuta in Russia immagino ma non in Italia soprattutto perché a che mi risulti nessuno l'ha mai tradotta quindi seppure qualcuno la conosceva non ne capiva il testo e invece Paolo con l'aiuto della moglie con l'aiuto di un'amica che parla russo se non sia russa adesso non ricordo ha tradotto questa canzone del reporter che poi i reporter praticamente adesso sono sono praticamente scomparsi perché il reporter non ha più senso c'è l'inviato di guerra ma il reporter non serve più basta lo smartphone il telefonino e fare le fotografie quindi il reporter credo che sia una categoria estinta nel diciassettesimo giorno parla di uno strano 50 mm per la Zenith e di come si monta come si può usare questo strano 50 mm e i risultati che si ottengono con questo strano 50 mm poi c'è la pubblicità e poi il diciottesimo giorno ci sono le fotografie dell'Agfa come era nel 1910 1912 probabilmente e ci sono una serie di fotografie che io ho tratto da un libricino molto rare in verità dove ci sono appunto le fotografie dello stabilimento dell'Agfa uffici autoveicoli imballaggio produzione mense bagni e tutte queste cose eccetera quindi questo è il contenuto del giornalino del fotografo al passato di ottobre 2024 e questo già ve ne ho parlato è il supplemento al giornalino del fotografo al passato di 10 reflex dalla mare bene però veniamo al punto come mai è importante proprio dal punto di vista del ricordo storico pubblicare le proprie fotografie a parte come momento di riflessione personale indubbiamente le proprie fotografie sul giornalismo delle foto venute dal passato faccio vedere per esempio le fotografie di David e queste sono le fotografie che ha inviato vedete beh tutti quanti anche chi scatta in analogico scatta le fotografie le fa la scansione le fa lo stampo poi rimangono in un cassetto una parte eccetera eccetera per quanto riguarda le fotografie digitali vabbè non c'è cassetto non c'è scansione c'è un numero spesso elevatissimo di file con cui si fanno queste fotografie digitali bene ma poi col tempo che succede che le fotografie analogiche restano nel cassetto dove stanno e forse nessuno le conoscerà mai e il nome del fotografo magari si perde pure le fotografie digitali non ne parliamo si potete metterlo su dove volete voi sui social sulla nuvola di internet praticamente eccetera eccetera ma siete sicuri che prima o poi queste fotografie si perderanno anche se le salvate sugli hard disk dei computer dovreste fare questa operazione in cinque anni perché poi in genere i computer durano sui cinque anni i computer fissi poi quelli là portati ancora meno in verità e quindi pure quelle fotografie si perderanno quindi chi avrà il ricordo di quell'autore e di quelle fotografie alla fine nessuno ebbene vi faccio vedere il primo praticamente al baracco di fotografare del 1970 dove in realtà non parlava di prezzi eccetera eccetera ma una raccolta delle più belle dicono loro fotografie dei lettori scusate ebbene qui ci sono tutti i nomi delle fotografie degli autori come dicevo qui ci sono tutti i nomi le fotografie e gli autori e quindi sappiamo chi sono gli autori di queste fotografie ne leggo qualcuno per esempio Massimo Trani Carlo Raffaelli Antonio Boldi Pietro Masera Giulio Conte Antonio Leale Lorenzo Rosso Mario Quarone Antonio Tomei e così e così via vedete tutte le fotografie che sono state fatte con il nome degli autori ora io a distanza di 50 anni posso vedere le fotografie scattate evidentemente prima del 1970 ma comunque che possono partere che hanno come termine il 1970 parliamo di 54 anni fa evidentemente ma andiamo ancora più indietro questa è la riproduzione che ho fatto io del libro Estetique della fotografie che è del 1900 ho smantellato l'originale per un libro che costa 6-700 euro per fare la riproduzione e anche qua ci sono le fotografie degli autori del 1900 quindi ad esempio questo e c'è il nome c'è tutto e così via e io posso conoscere i nomi degli autori di queste fotografie perché stanno qua vedete nel momento in cui qualcuno comprò quel libro e il libro può durare anche qualche secolo se non di più bene io posso sapere le fotografie dei vari autori delle varie fotografie vedete una cosa del genere credetemi succederà anche con il giornalino del fotografico che ho passato è vero che vende il numero di copie che vendeva l'almanac fotografare ma probabilmente vende il numero di copie che vendeva questo libro qua Cestetique della fotografia perché erano tirature limitate perciò poi l'originale costa 6-700 euro di questo libro qua quindi rimarrà ci sono persone che lo comprano lo conserveranno e magari fra 50 anni fra 100 anni si potranno vedere queste fotografie e sapere chi è stato l'autore trovo questa cosa di conservare nel tempo sulla carta su un giornale come questo queste fotografie è una cosa importante perché a me ha permesso di conoscere quegli autori quelle fotografie e per quanto riguarda l'estetique della fotografia quel movimento storico fotografico che si chiamava impropriamente in verità è stato chiamato anzi pittorialismo e quindi è per questo anche per questo che è importante pubblicare le proprie fotografie sul giornalino nel fotografico al passato perché il giornalino o l'erevolare si vende delle persone ce l'hanno lo conserveranno in casa passeranno gli anni i decenni probabilmente anche i secoli e queste fotografie rimarranno bene vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto per l'attenzione 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 per l'attenzione